Il vulcano Kilauea, nell'isola maggiore delle Hawaii, si sveglia. Questa è l'eruzione vista dall'alto. Immagini che mostrano la fuoriuscita della lava ai bordi delle cratere mentre raggiunge il mare. Un incontro raro, un fiume di magma in piena, con una temperatura che può superare i mille gradi centigradi che si tuffa nell'oceano. Il vulcano basaltico è in attività quasi continua dalla gennaio 1983. Il Kilauea, che in polinesiano significa nuvola di fumo, è il più attivo dei cinque vulcani che formano l'isola. Gli abitanti che vivono nei villaggi adiacenti sono in stato di allerta. Nel 2014 la lava ha raggiunto i centri abitati. Per ora, turisti e residenti si godono lo spettacolo della natura.